design e contrat nell'hospitality, retail, ufficio e residenziale, strategie arredo e allestimenti. Oggi, martedì 25 ottobre 2016, a Treviso, più di 300 architetti hanno partecipato al convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editora. Tra i molti interventi scientifici, anche la presenza di molte aziende che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Vediamo le interviste. Telmotor è un'azienda che nasce a Bergamo nel 1973. Diciamo che siamo dei distributori di materiale elettrico anomali, cosa significa che stiamo più focalizzati sul servizio da dare al cliente che sul prodotto. Le tre colonne portanti dell'azienda sono l'automazione industriale, l'energy solution e la parte di consulenza illuminotecnica. Io personalmente, insieme al mio collega, ci occupiamo di consulenza illuminotecnica per l'area di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Rovigo. Abbiamo visto che anche da parte degli architetti e geometri che hanno partecipato c'è stato interesse nei servizi che offriamo, soprattutto per la luce. Abbiamo visto che la consulenza e il supporto per la parte illuminotecnica è una cosa che interessa molto.